Questa proprietà, questo Presidente, il corso adesso ci è arrivato, credo che abbia preso una baglia, perché il ragazzo, ci sono state delle parole dette, adesso è quello che ho potuto capire, però il ragazzo, a me perlomeno, lo ha detto anche a Roma, non è stato lui, cioè non ha sentito, ci sono state delle parole dure, questo sì, ma non venivano dagli alici, non li hanno creduti, adesso il ragazzo sta arrivando, quindi bisogna sentire anche un po' la sorrezione, però è andato anche lui in su, a Roma, perché voleva cercare di convincere, però non venivano da lui le espressioni, che poi ha sentito da dietro, mi sembra sottotutto, peccato. Resta un fatto, Andrea, che in quella partita, una partita delicatissima, c'è stato un arbitraggio dire sbagliato è poco, cioè quanto ha senso, quanto ha senso ancora oggi davanti a una partita e ti ha condizionato la stagione questo fair play, questo atteggiamento di grande disponibilità, questa, o quanto non si è avuto il momento anche di dire che ci sono degli appuntamenti uguali, quando si sbaglia in questo modo qui, è legittimo protestare? Protestare in un modo civile, certo è legittimo fare, è un errore, non parlo l'atteggiamento della partita, questo non sta meglio, questi tecnici li valutate in un altro antiofio, c'è stato un errore, un errore di una tentazione, di un fallo, un fallo di mano, braccio, o quello che sia, e la differenza lì ti leva alla corsa, alla champion, quindi è diventato in gioco 30 milioni di differenze a società come le nostre, a tutte, quella è certo un'enorme differenza, questo è un errore che, da quello che, dal mio punto di vista, anche se la matematica non ci condanna, ma ci allontana in un modo molto distante, posso solo pensare, venuto dall'errore, anche gli altri sono degli esseri umani, io vedo soltanto l'errore in questo caso, non voglio pensare, non c'è nient'altro, non starei nel calcio, se pensassi in un modo diverso, e tornare indietro adesso, che cosa serve? La domanda è se non convenga ogni tanto alzare la voce, questa è la domanda e c'è, se la Fittina non alza mai la voce, l'allenatore non alza mai la voce? I scudetti non si vengono nei corridoi, come alcuni, come sapete, nei corridoi dei palazzi, quelle sono leggende del passato, adesso sono diverse le impostazioni, alzare la voce, stai tranquillo che io nelle 6 opportuni, le sono sempre fatte, con rispetto di tutti, noi siamo del far play, ma mica siamo stupiti, se non l'avete capito ancora, se pensate che noi siamo dei, non mi far dire delle parole un po' più pesanti, ma nessuno lo pensa, ti posso garantire anche a persone che si fanno rispettare, le persone che hanno dei valori, le persone che cercano anche di lanciare dei messaggi al calcio, come il far play, tante cose, il terzo tempo, ma non mi devo pentire che questa situazione qui poi, che qualcuno pensi anche in città, e mi dispiace se le pensate anche loro, che poi sono cose che invece fanno passare un po' adatto e nessuno lo pensa, se ancora non l'avete capito, quello dell'altra sera è stato un errore, sicuramente l'ho anche detto in televisione, la freddezza di quel momento, sicuramente rivedendosi in televisione l'avrà pensato anche l'arco, l'avrà anche pensato, ha fatto prendere due giornate al viaggio, forse non ha visto bene però. Questo è diverso, infatti mi aspettavo, però ripeto, il ragazzo ha giurato che non è stato lui, ma soprattutto non è venuta da lui, sono 30-20 persone dietro, quindi queste sono due cose che bisognava aiutare, è andato posto a Roma anche per cercare di spiegare. Presidente, resta il fatto però che quest'estate c'è stato un movimento un po' particolare per cercare la parte della Juventus e la Costituzione della Fiorentina. Lo dico.